Giulia, ma perché migliaia di persone stanno a guardare altre persone che lavorano, che studiano, che stanno in silenzio con una tastiera? Che è sta roba, questo mondo? Secondo me ci sono tante cose positive al riguardo, il fatto che tante persone cerchino compagnia nello studiare e nel lavorare e secondo me è una delle cose più naturali in assoluto. Pensa a quando tu andavi in università e magari andavi in biblioteca. Perché andavi in biblioteca e non stavi in cameretta tua? C'era un motivo. Il fatto di essere con altre persone, a me piace chiamarlo anche molto il pure pressure, di avere qualcuno che sai che sta facendo le stesse cose e quindi ti senti anche un po' in dovere di doverlo fare. Ci sta, vedi gli altri produttivi e gli altri produttivi e dici che anche io mi tocca. Non posso aprire TikTok, mi guardano male. In effetti forse quando ero studente avrei dovuto farlo di più perché tendevo a isolarmi e in realtà studiavo molto peggio così. Per cui in realtà probabilmente questo aspetto è veramente efficace. C'è tutta una scienza dietro a quello che viene chiamato body doubling. Cioè l'idea di, come dire, riprodurre quello che le altre persone stanno facendo. La cosa interessante è che il mondo di internet ha aperto al body doubling digitale. Cioè quello che dici tu, vecchio come il mondo, andiamo insieme in aula studio, no? Sì. Adesso però c'è lo streaming. E come cambia secondo te questo panorama? Secondo me intanto è sicuramente cambiato con il covid, con la pandemia, quando si cercava lo stesso tipo di contatto con le altre persone, ma non si poteva avere in nessun modo se non digitale. Ed è da lì infatti che è esploso questo fenomeno del co-working in live o anche semplicemente di study with me su YouTube, perché è pieno anche di study with me su YouTube. Sì, anche ho fatto qualche esperimento copiandoti, allesemente. Quando vuoi. E che le persone mettono un po' come sfondo, perché appunto, come dicevi tu, body doubling ti aiuta molto a seguire quello che fa anche l'altra persona, ti aiuta molto a replicare. E quindi con la parte digitale l'ha reso più facile, perché ci permette di non dover uscire di casa, di non dover andare in biblioteca per forza, però allo stesso tempo lo rende un po' più appunto strano che le persone come te mi chiedono, ma perché? Perché? Perché uno deve stare davanti al computer a guardare altri studiare? Sembra incomprensibile, però effettivamente il senso di isolamento che provano studenti e studentesse è molto concreto, è molto reale. E in realtà il covid, come dicevi, sicuramente ha potenziato questo aspetto, ma da sempre lo studio è un pochettino un'attività solitaria, un'attività in cui tu sei concentrato, concentrata su un libro, su degli appunti, eccetera, e il resto del mondo deve in qualche modo sparire e questo può portare a una sensazione di solitudine. Noi sappiamo che le difficoltà psicologiche e psichiatriche, purtroppo legate al mondo dello studio, sono in aumento. E quindi chiaramente questo è un modo per contrastare anche una sorta di carico, di peso, che cerchiamo di condividere con gli altri. Quindi probabilmente è questo. Sicuramente la creazione di una community di persone che stanno studiando, che stanno lavorando, che hanno più o meno gli stessi problemi, nel senso che hanno le ansie dell'esame, il professore che ce l'ha con te, sicuramente ti aiuta molto di più a condividere questo peso. Cioè sappiamo perfettamente quanto condividere i nostri problemi, i nostri pesi che abbiamo, aiuta anche a sentirci un po' più rilassati nel confronto di questi problemi. Certo, su questo poi ci voglio tornare perché in realtà il tema della condivisione dell'ansia può nascondere delle cose particolari. Ma volevo andare alla mia scaletta perché avrei potuto memorizzare tutto, ma non l'ho fatto chiaramente. Quindi mi sono portato la scaletta di davanti. No, sul fatto che in realtà il concetto di body doubling deriva da tecniche di terapia cognitivo-comportamentale, quindi è nato in ambito psicologico e in particolare principalmente nello studio dei disturbi dell'attenzione e dell'ansia proprio. Ovviamente oggi viene applicato in mille ambiti diversi, ma sembra funzionare fondamentalmente per tre pilastri. Il primo è perché ci spinge a scegliere una specifica attività su cui lavorare. Questo è interessante perché io vedo te che stai rispondendo a delle mail o che stai studiando o che stai facendo una call e sono portato a dire invece di disperdermi a fare 200 cose, il multitasking tossico, anch'io mi focalizzano. E poi c'è, e qui ti voglio chiedere una cosa, porta a rispettare un tempo prestabilito. Tu sei la maestra dei pomodori, questa cosa qui. Come funziona e come ti trovi con l'idea di segmentare in maniera molto rigida da un certo punto di vista il tuo tempo e il tempo delle persone che ti seguono? Per come sono fatta io, cioè da sempre, anche quando andavo all'università, ho sempre avuto l'ansia del dire devo fare questa cosa, no ma devo fare anche quest'altra, no ma aspetta, però prima c'è priorità di questo e quindi ho sempre avuto quest'ansia che non mi portava mai a fare qualcosa di sensato. Ok. O anche semplicemente l'idea di avere, oddio ho 70 pagine da studiare oggi, come inizio. L'idea di suddividere il tempo in pezzettini mi ha sempre aiutato a pensare, ok adesso 45 minuti, ho 20 pagine. Si può fare, più raggiungibile rispetto al pensiero di devo studiare per tutto il giorno. Oppure anche l'idea del devo studiare tutto il giorno, non posso guardare il telefilm, non posso guardare, mi metteva proprio il panico e quindi non avevo proprio voglia di iniziare. Ok. Quindi per evitare l'ansia di iniziare, quando nel momento in cui tu ti dai un segmento di tempo ti sembra più affrontabile. È un micro obiettivo. Esatto, esatto. Molto spesso si sente anche nel campo della produttività che ti dici 5 minuti per fare la lavastoviglia, ti metti il timer 5 minuti, è la stessa cosa per lo studio. Mi metto un timer 40 minuti, dopo posso fare quello che voglio, però per 40 minuti mi concentro su questa singola cosa. E' una cosa che ho sempre fatto da quando ero anche all'università appunto e adesso con la mia community siamo un po' più tranquilli quando ci sono i break. L'hai visto anche tu quando abbiamo fatto la nostra live insieme siamo più tranquilli, ma perché è importante per me collegare lo studio a un sentimento più rilassato rispetto almeno a quello che ho vissuto io quando ero all'università, quando facevo il master. Sicuramente voglio che le persone imparino che lo studio non deve essere un'agonia, non deve essere perennemente un oh no, devo fare 70 capitoli, è più un mi faccio questo capitolo, poi una chiacchierata rilassata, poi continuiamo, perché questo poi ti porta anche a voler continuare a studiare, perché nel momento in cui tu colleghi una qualche azione a qualcosa di negativo, sai perfettamente che ti passerà la voglia di farlo per tanto tempo. Sì, questo è interessante perché abbiamo un po' nella nostra testa l'idea che qualcosa di difficile equivale a qualcosa di palloso, di faticoso, eccessivamente, di frustrante, invece le cose difficili possono essere anche positive. Sì. È difficile studiare, sì, ma può darmi anche soddisfazione, e se vedo altre persone lì questo funziona meglio. Come reagiscono? Appunto la tua chat, le persone che sono lì ai pomodori li rispettano, oppure in realtà cazzeggiano e scrivono mentre tu lavori? Ci sono delle volte in cui magari vedo la chat che comincia ad essere più attiva e quindi comincia già a guardare, ragazzi, troppe chiacchiere qua vedo, siamo un po' distratti, però anche loro magari ci sono persone che arrivano a metà di un pomodoro e quindi fanno un po' più di chiacchiera con quelli che invece si fermano prima, perché dicono non riesco a fare 45 minuti oggi, oggi faccio 20 perché mi sto distraendo. Ed è la cosa, secondo me, più interessante vedere le persone che si rendono conto, sì, fanno autocritica e dicono ok, di questi 40 minuti non riesco, non riesco, faccio 20 minuti e 25 poi io almeno ho qualcuno con cui chiacchierare, con cui comunque fare un break che abbia un senso. Ok, come sei arrivata tra l'altro ai 40-45? Perché la tecnica del pomodoro parte da 25 minuti, c'è poi il pomodoro doppio, 50 minuti 10 e poi ci sono tutte delle varie versioni intermedi, no? Come sei arrivata al tuo minutaggio? A parte che sì, effettivamente tutti quanti dicono di fare 25-50 minuti o a fare 150 anche, che sento. Ce l'ho un po' troppo, personalmente, però vabbè. Però anche io avevo iniziato con 25 e 5 minuti per poi dopo fare il doppio break di 10 minuti. Però facendo varie test con le live in chat, con le live su Twitch, abbiamo fatto 25-50 minuti, 25 erano troppo brevi perché per tornare ci mettevamo quei 5 minuti per tornare ad essere produttivi, anche se non per ricapire cosa si stava facendo. 50 invece era troppo lungo, siamo arrivati a 35, abbiamo fatto 45. Secondo me non è importante tanto quanto è il lasso di tempo, è importante che tu ti renda conto di quanto è giusto per te. Perché per alcuni è più facile 25, per alcuni è più facile 50, per alcuni 30. Non c'è una regola scritta. Può dipendere anche probabilmente dalla giornata, dall'argomento. Assolutamente, sicuramente anche dall'argomento. Magari ci sono quelli più tosti per cui hai bisogno di 25 minuti perché per affrontarli è anche troppo. Ci sta. E tra l'altro poi invece c'è il terzo aspetto del perché funziona che è quello che dicevi un po' tu prima, cioè ci porta a rispondere a qualcuno di quello che stiamo facendo, è un po' l'effetto personal trainer se vuoi. E quindi tu sei un po' la personal trainer di tutta la gente che vuole studiare su Twitch, hai questa responsabilità. La cosa interessante è che ci sono anche degli studi in merito, mi sono segnato. uno studio del 2010 dell'American Association for Talent Development, vabbè. Bella pronuncia inglese comunque. Sì, grazie. Vieni a prendermi in giro, maledetta. Lo sai che se mi sento in difficoltà con questa cosa, e vabbè. Lei mette il dito in una... A posto. Tagliamo qui il podcast fuori. Grazie. Siete bello. Lo studio dice che la probabilità di completare un task quando ci troviamo in presenza di qualcun altro che si sta impegnando molto, anche se in un'altra attività, aumenta del 65%. Questo sarebbe... Ovviamente funziona un po' meno col digitale, perché c'è una barriera. E poi c'è un altro studio del 2006 che dice che le cause dell'efficacia di questa tecnica sono da ricercare in una sorta di pressione sociale che viene percepita. Un impegno che sentiamo di avere con il nostro doppio, la persona che stiamo doppiando, che saresti tu in questo caso. Questo, secondo te, quindi ti faccio una domanda un po' più filosofica, funziona bene? Che funzioni? L'abbiamo visto, ma sul lungo periodo, cioè, non rischiamo di creare anche una sorta di dipendenza. Mi guardo anch'io perché ho cominciato anch'io a fare i pomodori in live, gli study with me, e vorrei anche continuare. Non rischiamo di dare una sorta di forma di dipendenza alle persone che ci guardano, tale per cui, se non c'è Giulia che studia, io non studio più. Sicuramente crea un certo tipo di dipendenza, anche, secondo me, da parte dello streamer. Mi vedo io in primis, nel momento in cui faccio io i pomodori in live, sono molto più produttiva rispetto a quando magari sto studiando per i fatti miei, magari sul divano. Mi rendo conto che non è paragonabile. E sì, mi rendo conto che c'è probabilità di dipendenza, come è normale che sia dopo per qualsiasi azione che viene ripetuta tanto nel tempo, però allo stesso tempo mi sono chiesta spesso, in realtà, allo stesso tempo mi viene da dire l'uomo comunque è un animale sociale e sicuramente vengono creati altri tipi di dipendenza, dipendenza emotiva da persone e se deve essere una dipendenza da qualcuno, se da una strategia, secondo me non è così dispiacevo, cioè non mi dispiace così tanto. Nel momento in cui però la persona ne è cosciente, bisogna essere cosciente di quello che si sta facendo, nel senso che spesso magari vedo dei ragazzi in ciò che mi dicono ah, oggi non riesco a studiare se tu non vai in live. In che senso? No, quello che io sto cercando di insegnarvi è un metodo di studio, infatti quello che cerchiamo di creare è sempre non sono io, ma è un senso di community, infatti per esempio facciamo le live su Discord dove tutti quanti possono partecipare ed è più una cosa dove anche tu sei presente, perché come dicevi tu, il fatto che essendo digitale viene un po' meno questa cosa del peer pressure, perché appunto sono io che mi faccio vedere dalle altre persone e quindi manca l'altra parte dove tu ti fai vedere da me. Nel momento in cui ci sono queste videochiamate di gruppo rientra un po' questa dinamica del... Siamo tutti alla pari. Esatto, tutti quanti ci facciamo vedere e in quel caso magari è semplicemente un tipo di boost, però secondo me è fondamentale imparare anche ad essere presenti per se stessi. Certo, più che altro secondo me c'è una bella distinzione tra il dire sono dipendente tra virgolette da una tecnica che può essere il body doubling o da una persona. Cioè un conto è dire ho bisogno di trovare un'aula studio virtuale, quello sì, ok, è una dipendenza, però è una dipendenza che tutto sommato fa il giusto male, un conto è dire sono dipendente da Giulia. No, quello è assolutamente una completa differenza. Quindi quello che tu fai secondo me è preziosissimo, ne parlavamo anche prima al bar, prima del podcast e dicevamo appunto la differenza anche molto tra il mondo Twitch e il mondo YouTube è il fatto che su YouTube c'è più un rapporto uno a uno se vuoi. Io sono lo spettatore, guardo il creator, su Twitch si forma anche una sorta di community tra spettatori e questo effettivamente mitiga un po' l'idea di sono dipendente dalla creator o dal creator specifico. È più dipendente dalla community ed è quello che cerco che le persone abbiano in un certo senso, non perché voglio che le persone siano dipendenti ma perché vogliono che si crei questa idea di community, di gruppo che poi può essere appunto come dicevo una cosa insita all'interno dell'uomo, della socialità. Certo, tra l'altro infatti nessuno si sognerebbe mai di dire ah sei dipendente dall'aula studio quindi non va bene. Se tu preferisci studiare in quel modo lì lo fai, non c'è niente di male. Anzi, credo che lavorare sull'ambiente in cui si studia o si lavora sia fondamentale per la produttività e anche per il benessere psicologico perché se tu ti isoli durante il covid la gente andava matta. Per fortuna che sono nate iniziative come la tua perché sennò succedeva un disastro. Qui mi sono segnato una cosa interessante. Non so se qualcuno te ne ha mai parlato magari della tua community ma quello che emerge considera la scienza sul body doubling sta ancora indagando perché è un fenomeno soprattutto quello digitale molto recente sembra che possa essere utile anche per i disturbi da deficit dell'attenzione quindi dalla DHD perché porterebbe una maggiore motivazione estrinseca. Noi sappiamo che la motivazione intrinseca è quella che veramente fa la differenza però in ogni caso avere un boost di energia di voglia tra virgolette di studiare può fare la differenza. c'è un tema di responsabilizzazione perché tu ti senti responsabile del fatto che stai partecipando appunto a un gruppo c'è un aspetto di routine e di struttura questo è importantissimo per chi ha magari alcune neurodivergenze come la DHD ma anche altre come l'autismo cioè il fatto di avere una routine predefinita una struttura dei minutaggi può aiutare e poi la riduzione dell'isolamento le persone che hanno difficoltà di concentrazione più sono da sole più la mente magari tende a partire. Ti è mai capitato che persone con DSA disturbi dell'apprendimento o neurodivergenze ti dicessero grazie alla tua live così ti capita? Tantissimo infatti secondo me la maggior parte delle persone che mi seguono se non soffrono di ADHD disturbi dell'attenzione magari soffrono di altre patologie o di altre problematiche che li portano ad avere più o meno gli stessi sintomi io in primis per esempio non sono stata mai diagnosticata con ADHD però con la mia psicologa abbiamo capito che ho più o meno gli stessi sintomi che derivano dalla mia ansia dalle mie varie ansie che quindi mi portano ad avere perennemente pensieri che vagano come se avessi mille tabs di Google Chrome dico quindi continuo a vago non finisco mai un pensiero e quindi sicuramente è super utile per me in primis avere una task definita per un determinato periodo con il pomodoro ma poi anche avere la peer pressure delle persone che seguono che so che devo essere presente per loro e poi perché mi sono preparata anche io non soltanto tu con la scaletta però ci sono degli studi appunto che hanno definito l'ADHD in tre di dirette tipologie sono hyperactive inattentive e quella combined quindi iperattività invece quelli che non riescono a stare attenti si perdono e non pensano si perdono con i loro pensieri invece quella combinata che poveraccia c'è sia iperattivo che volete entrambi il peggio del mondo che quindi in tutti questi tre casi comunque il body doubling è utile perché nel momento in cui tu sei hyperactive quindi iperattivo nel momento in cui ti trovi hai un'ottima pronuncia nel momento in cui ti trovi davanti qualcuno che fa un'azione che dovresti fare ti viene da dire ok concentra tutte queste energie che ho verso questo verso quest'unica cosa e invece quelli inattentive magari allo stesso modo dicono ah ok mi sto distraendo guarda che sta facendo ok torniamo a fare questa cosa o poi ti riperdi vedi che sta facendo ancora studiando devo ritornare più che permettetti di concentrarti ti permettono di ritornare quando ti perdi esatto esatto così nel momento hai proprio il come se avessi l'esempio di come dovresti essere dici ah aspetta perché sto facendo i piatti che stavo studiando aspetta torniamo torniamo lì esatto questo è veramente figo e devo dirti io l'ho vissuto personalmente da creator perché vedendo te e il successo di quello che fai ho detto anch'io adesso mi metto a fare le dimostro che si può fare poi tu lo fai in inglese lo faccio in italiano per tutta quella gente che l'inglese non lo mastica no va bene a parte che stiamo preparando abbiamo dei piani per un ritorno di study with me tosti con ospiti così eccetera bellissimo va bene però quello che ho visto è ho fatto due settimane quasi di tutti i giorni in cui streamavo su youtube nel mio caso e devo dire che sono stato produttivo con una macchina da guerra è incredibile avevo da finire la scrittura del mio libro per Feltrinelli e ho scritto una quantità di pagine al giorno inverosimile perché sentivo anche e qui ci ritengo a sentire la tua opinione sentivo anche una responsabilità verso chi mi guardava ci dicevo io sono qui per fare da esempio queste persone posso cazzeggiare devo fargli vedere che si può fare si può studiare e lavorare in maniera concentrata la senti anche tu questa la responsabilità io tantissimo infatti è una delle motivazioni per cui ogni giorno io riesco ad essere live studiando o lavorando nel mio caso da remote worker non so se se non facessi queste live su twitch non so se riuscirei ad essere ogni giorno alla stessa ora ogni tanto magari in ritardo ogni giorno alla stessa ora al presente su teams per parlare con il mio team per fare queste determinate ore di lavoro perché magari probabilmente mi distrarrei anche viaggiando tra l'altro sì esatto invece così rimani accountable sei proprio responsabile per gli altri ok quindi praticamente body doubling il segreto dei veri nomadi digitali delle vere nomadi non c'entra niente con questo argomento ma com'è il nomadismo si riesce a lavorare secondo me dipende un po' dove si va ci sono vari stati secondo me che è un po' più complesso proprio perché non si è aperti al digital nomad per esempio stupidamente secondo me in Italia è difficile perché per esempio nei barra è difficile trovare delle prese della corrente o un wifi che vada decentemente a meno che tu non vada in un co-working space ma neanche in tutti i co-working space ci sono le prese stupidamente mentre invece andando per esempio a Taiwan Taiwan è perfetto Taiwan trovi ovunque sei connesso sempre senza zero problemi anche perché probabilmente lì lavorano sempre quindi devono no in realtà mi è capitato tre giorni fa lunedì ero a Trieste per un evento mi sono visto anche con il mitico Just Meek a pranzo e poi dovevo fare una call e non sapevo dove andare sono andato in un bar c'era casino non c'era la presa esatto c'era il tipo che continuamente dice vuole qualcosa sì ma sono sì sì esatto non è un paese per remote workers siamo sociali dobbiamo chiacchierare al bar noi non possiamo essere lì per lavorare e che cosa pensi di chi dice che chi fa remote working smart working eccetera non lavora in realtà cioè che ha solo in ufficio dal vivo bisogna se no secondo me c'è un fondo di verità nel senso che nel momento in cui tu hai una routine secondo me sei molto più produttivo perché se sai che dalle otto alle cinque del pomeriggio sei in quel posto hai la connessione sempre presente non hai problemi di persone che ti vengono a parlare non hai distrazione sicuramente sei più produttivo però allo stesso tempo secondo me nel momento in cui uno è bravo ad essere un digital nomad diventi molto più creativo hai molti più spunti per avere idee sappiamo benissimo come l'apprendimento non venga semplicemente dallo studio forzato di un qualcosa ma anche dal riposo certo e nel momento in cui tu sei un remote worker hai tantissimi spunti per come risolvere un problema contaminazioni culture poi ti rendi conto magari parlando con qualcuno dici questa cosa non è mai stata fatta nella mia azienda prima potrei ed è sicuramente molto più capacità di creare cose nuove ok e come la vivi invece la combo di body doubling e diciamo tool classici di produttività è sempre importante ne parlavi anche prima impostare degli obiettivi chiari, misurabili, precisi come lo fai? cioè tu ti dai utilizzi un time blocking come un po' quello che faccio io cioè avere una tabella che mezz'ora per mezz'ora ora per ora ti dice cosa fare oppure classica agenda cosa consigli da questo punto di vista? io mi sono trovata ho provato varie app ho avuto il periodo in cui ogni due settimane cambiavo app facevo questa poi quell'altra poi mi sono reso conto che perdevo tempo e stavo procrastinando perché avevo la mania del perfezionismo dove doveva essere perfetta ho trovato un'app che andava abbastanza bene faceva quello di cui avevo bisogno facci la marchetta dai posso fare la marchetta? fai la marchetta è anche una start up italiana quindi mi va benissimo Akiflo sai che l'ho sentita ce l'ho aperta nel tab di Chrome perché la voglio provare ma non l'ho ancora provata perché sono un adepto di Excel cioè io faccio la tabella su Excel sì lo so lo so non mi giudicare non mi giudicare sì con Excel no in realtà con Google Sheets perché la devo condividere con tutti quindi e sì io ce l'ho su Excel io mi sono innamorata di Akiflo che è questo tool per il quale puoi fare time blocking metti insieme le diverse email tutte le to do io parliamo sempre del second brain quello è il mio secondo brain second brain il tuo cervello è lì è lì io dico sempre che se non è scritto lì non esiste per me se non ho un evento scritto su quell'agenda lì non esiste questa non è una cosa sponsorizzata no per niente ma se Akiflo ci vuole pagare siamo qui no peggio perché con loro avevo fatto una sponsorizzata e mi sono auto influenzata ho fatto un mese di sponsorizzata con loro e poi pago adesso pago io non cadrò in questo però se volete pagare sono qui ragazzi sei riuscita a convertire me che sono la dep io uso Excel non mi sposto da lì ci ho provato con Notion ci ho provato se riescono a convertire me hanno praticamente il testimonio ci lavoriamo ci lavoriamo capito poi prendo una percentuale eh sì capito affiliazioni varie l'ultimo argomento che vorrei toccare con te è quello dell'ambiente vero e proprio perché avere una persona che stai dabolando non so se questa non è una parola italiana ma facciamo finta o una community addirittura di cui partecipi non basta perché devi essere anche nell'ambiente giusto quali sono i tuoi consigli per organizzare un ambiente di studio e di produttività sensato efficace e anche preparato al body doubling perché tu hai una tua postazione tra l'altro fighissima che ti invidia tantissimo stiamo cercando di lavorare perché la mia postazione sia minimamente figa come la tua come la organizzi e come consigli di organizzare la mia chat la mia community sanno perfettamente che io sono malata per le luci ok c'è proprio una malattia nel tipo che se passo tipo mezz'ora all'inizio della live se c'è qualche luce che non va che non li devo mettere a posto perché secondo me l'ambiente viene fatto tantissimo dalle luci e mi viene in mente quando ero studente che ero nella mia cameretta immaginati il buco dello studente come c'è la scrivania un po' storta il letto che è praticamente la sedia della scrivania perfetto l'unica cosa che potevo fare per rendere la mia camera un po' più che mi facesse proprio venire voglia di mettermi lì a studiare era le luci ok che sono anche una cosa abbastanza economica in realtà se ci pensi puoi trovarti dei led che costano poco quelli sicuramente aiutano poi ci sono tutte le cose scientifiche che provano per esempio devi avere una finestra per fare entrare anche l'aria ossigeno non se sei a Milano se sei a Milano meglio il chiuso però sicuramente una finestra che ti dà l'idea di poter guardare fuori anche perché oltre ad essere estetica anche una funzionalità diciamo effettiva nel senso che sappiamo che stare davanti a uno schermo per troppo tempo fa male stacchi e guardi fuori c'è una regola se non sbaglio però mi dimentico sempre com'è ogni 20 minuti guardare per 2 minuti a 20 metri di distanza l'ho letta anche io non me la ricordo però dovrebbe essere facile da ricordare guardare comunque l'idea di rompere la focalizzazione estrema esatto e quindi cosa fa la maggior parte degli studenti guardano lo schermo o il libro staccano e guardano il cellulare e quello non ti riposa esatto invece dovresti avere magari una finestra viene in mente per poter guardare più lontano oppure anche degli studi dimostrano che la presenza di piante nello spazio aiuta molto anche se sono anche quelle piante finte perché a me muoiono tutte le piante dice sì Dario non so se addirittura con il murale stipiant addirittura con il murale stipiant figo quindi anche di plastica sì sicuramente però in generale almeno una cosa che aiuta molto a me è romanticizzare l'ambiente di studio nel momento in cui hai un ambiente che ti piace che sei riuscito a romanticizzare in un certo senso ti fa più piacere mettere sì esatto ti fa più piacere anche semplicemente stare in quella stanza perché magari sei in casa con i tuoi genitori che vorresti fare a meno sei in casa con dei coinquilini che vorresti fare a meno saluto giumbo e quindi sicuramente rendere il tuo spazio tuo può aiutare ok sì io aggiungo solo un consiglio perché è bello romanticizzare però deve esserci anche ordine per favore ordine perché poi io le vedo le schivanie di studio vi vedo casino libri patatine cioè una cosa però un bel libro il computer la penna la matita tu sei una di quelle da 200 evidenziatori no io avevo io avevo un evidenziatore uno e venivo presa in giro perché? perché era grigio come grigio? ma che schizzo ha? perché mi piaceva l'estetica del libro evidenziato di grigio con gli appunti in nero sempre stata malata di queste cose l'estetica l'estetica black and white sugli appunti questa mi è proprio nuova come anche al liceo tutti quanti avevano le agende i diali tutti colorati io avevo la moleskin tutta sera scritta in matita figlietta ho capito è così no l'evidenziatore grigio non so neanche se esista no presente i pennarelli della classici tutti quanti i bambini usavano tutti i colori e avanzavano sempre il grigio e quindi io andavo dai fratelli dei miei amici a prendere il grigio dalle scatole neanche te li compravi te li scorcavi pure perfetto una meraviglia no questo è devo dire che in questo caso il bullismo era giustificato noi siamo contro il bullismo tranne nel caso degli evidenziatori grigi ok no perché adesso vanno un sacco di moda non so se vedi le study talk con 200 evidenziatori quello è ormai lo stesso concetto del provare più app di produttività possibile che poi ti perdi poi non perdi proprio il concetto del devi stare lì a studiare quindi pensi ah devo evidenziarlo in giallo o in rosso perché è un luogo però è anche un posto che è nella letteratura quindi semmai perdi troppo tempo alle volte sono d'accordo secondo me gli strumenti di produttività come quelli di studio devono essere minimali deve avere meno roba possibile che deve avere la massima funzionalità possibile assolutamente neanche l'ordine quindi tu comunque sei anche ordinata non è la schivania a parte la tazza di jumbo che io ogni tanto ogni tanto magari ho tipo l'angolo del letto che non si vede non è inquadrato che c'è una montagna di roba però se non appare in camera non esiste non esiste non è vero quindi le luci qui sulle luci volevo farti una domanda l'illuminazione ok figa lucette cose così però generalmente almeno nella mia piccola esperienza di persona che crea contenuti quando tu vuoi fare un'atmosfera figa dal punto di vista del colore è un po' buio però sì non è un po' perché in realtà uno deve vederci bene vai un po' in contrasto con l'idea della finestra da cui entra luce solare però se vuoi fare il set figo la finestra deve essere un po' chiuse devi vedere dei fari quindi come almeno nel mio caso io vabbè ho la stanza che è un po' buia ho una finestra enorme però è diciamo angolata in modo che non ci batte il sole però allo stesso tempo le luci che ho dentro sono molto soft tranne quella che punta io in realtà proprio per il tipo di contenuti che faccio devo avere una luce come quelle che abbiamo qua adesso che non diresti esatto i fari quindi nel mio caso ho la luce puntata però ho visto tantissimi ragazzi che invece hanno delle luci che invece che essere bianco fredde sono magari più sui toni caldi e quindi c'è illuminazione ma comunque è un po' più stanca meno sicuramente stanca meno ok quindi tipo le luci della biblioteca quelle ti ammazzano che però sono meno fighe in camera e quindi se uno vuole fare cioè se uno vuole streamare deve soffrire e invece sei tipa da app che bloccano le notifiche cose di questo tipo oppure sei zen ho avuto sicuramente io mi considero addicted cioè sono addicted al telefono same here sì io passo le ore sui periodi in cui passo molto più tempo al telefono dove sono a guardare i reel ai tiktok mi perdo mando il video dei gattini e cose assolutamente ho provato varie app per togliere distrazioni ho provato anche quelle app che proprio ti bloccano le varie applicazioni dopo tatt minuti però adesso sto usando quella integrale quella integrata all'interno dell'iPhone che ti blocca ogni dopo 15 minuti non la rispetto mai però però un po' più utile invece una cosa che avevo provato che mi era stata utile in un periodo in cui dovevo essere completamente zen però adesso ovviamente essendo i social anche il mio lavoro diventa più difficile una cosa che avevo provato che si può fare da qualsiasi telefono è rendere il telefono lo schermo del telefono tutto in bianco e nero ok perché molto spesso tu ce l'hai col bianco e nero i grigi ti piace l'estetica un po' perché in realtà se tu ci pensi quello che fanno i produttori delle app del telefono fanno tutte cose che ti possano far venire voglia il motivo per cui la notifica è rossa e non è grigia c'è un motivo dietro quindi nel momento in cui tu metti in bianco e nero tutto ti stufa un po' ok i colori ti attraggono il meno sì è una cosa che avevo provato e mi era servita tanto mi ricordo che guardavo i reel e dicevo che noia perché non c'erano più i colori che mi attraevano e le notifiche non tipo io la mania del zero notifiche ok non devo avere nessun tipo di notifica e nel momento in cui erano grigie non mi davano neanche più troppo fastidio in realtà ok quindi non avevi neanche quella pressione di dire devo vedere che cos'è questa cosa questo è utile soprattutto per chi fa un lavoro come il nostro in cui le notifiche sono la vita è un bombardamento io sono riuscito a ridurre e fondamentalmente apro solo youtube studio e rispondo solo a quei commenti lì e già però sono tanti non vedo di solito instagram non vedo le mail le guardo dal computer cerco di non averle sul telefono però youtube studio eh sì vai lì clicchi vedi commento il commento stupido ti incazzi rispondi come li gestisci tra l'altro in live ecco cioè il momento siamo concentrati stiamo lavorando arriva il coglione ti sconcentra oppure sei ormai sicuramente ci sono le volte in cui non guardo minimamente la chat poi invece ci sono magari delle giornate un po' più tranquille in cui magari mi distrago un po' di più perché so che posso permettermelo e la mia chat sa già che nel momento in cui arriva un troll vengono i piedi così viene tac sanno già che io mi diverto tantissimo mi godo perché ci sono magari le persone che entrano e dicono ma che cos'è questa cosa e lì stiamo a spiegare invece ci sono quelli che entrano e insultano e cominciano allora io comincio con mom jokes dad jokes e comincio a insultare un po' si fa content ma poi ormai è un passatempo perché ci si fa la mano e più che combatterli tanti mi dicono bannali e basta ignorali ma io sono molto dell'idea del se continuiamo ad ignorare le persone che fanno cose sbagliate non imparano mai loro e si continua a propagare questo tipo di attitudine e quindi io continuo lì per culi loro hanno il diritto hanno il sacrosanto diritto di entrare in chat e dire quello che vogliono io ho il sacrosanto diritto di rispondergli oh che bello meraviglioso direi che è la sembrava suonava un po' come una minaccia e ci piace per questo ma è così tra l'altro mi ero dimenticato che dovevo aggiungere quella cosa sull'ansia e sulla condivisione dell'ansia perché lavorando con alcuni psicologi come in particolare Alessandro Bartoletti e Gennaro Romagnoli quello che emerge è che condividere l'ansia da un certo punto di vista ci fa sentire meglio nel senso che ci sfoghiamo ma dall'altro l'ansia ha la brutta tendenza ad amplificarsi e entrare in risonanza e quindi quello che succede è che io mi sfogo con te tu sei più ansiosa ti sfoghi con me e poi alla fine siamo tutti e due più ansiosi di prima quindi il rischio è quello secondo me la condivisione è preziosissima e va incoraggiata anche con appunto community come la tua però bisognerebbe tenere a freno la lamentela o il dire io ho paurissima di questa cosa qui ah no anch'io ho paurissima ecco magari regolarla sì sicuramente quella la gara io sono più in ansia di te che c'è sempre che si vede sempre tipo oh mio dio l'esame ho dormito due ore no io ne ho dormita una cioè sicuramente quelle sono cose da evitare sì è come la chiacchiera fuori dall'ufficio del professore dieci minuti prima dell'esame sì hai studiato questo no io non l'ho studiato non vuoi sapere niente è meglio tenersela per sé sì in certe case sicuramente insomma body doubling è una cosa interessante io devo dirti l'ho scoperto appunto quest'anno e penso che continuerò a farli e magari anche c'è una mezza idea in un ufficio di avere tipo un server discord dove chi vuole può bellissimo sì sicuramente è una cosa da sperimentare sono anche varie applicazioni dove tu puoi entrare con il tuo piccolo avatar crei l'ufficio virtuale e con il tuo piccolo avatar vai solo nella tua scrivania e quindi puoi andare nella scrivania di fronte a qualcun altro che è già dentro l'ufficio e ti metti a fare sembra molto figo ho una vocina nella testa che dice questo è il modo distopico con cui il capo ti sorveglia questa cosa forse non parlo tu questa cosa un pochettino mi inquieta però benissimo Giulia dove ti possono seguire come possono bodydublare con te e con la tua community sicuramente su Twitch ok praticamente quasi tutti i giorni e poi anche su Instagram per le varie attività per le varie cose che facciamo come le correzioni di curriculum o partecipare al Discord al server su Discord con tutte le persone che si mettono a studiare davanti insieme ok beh fighissimo vedremo di promuovere questa idea del bodydumbling e poi di farti concorrenza non vedo l'ora ti prego più siamo meglio è bene così a presto grazie